Una non meno significativa area coltivata in forme innovative del triennio, organizzando tre conferenze internazionali, è stata quella nota come i saperi dell'arte, di cui tra poco sentiremo una parola. Esprimiamo quindi il nostro ringraziamento a tutti gli accademici, al Collegio dei Dottori, qui rappresentato con il prefetto per il suo contributo fondamentale all'attività dell'Accademia, alla Congregazione dei Conservatori, qui ben rappresentata con il Presidente e altri congregati, per il forte impegno nel sostegno economico di tutte queste attività. Grazie ancora e adesso credo di introdurre per un saluto il Professor Dottor Aldo Nesserat, come da programma, e Co-Presidente Scientifico dei Saperi dell'Arte insieme all'Avvocato Gian Giacomo Attolico Trivulzio e a Monsignor Franco Buzzi, Professore di Storia dell'Arte della Humboldt Universität zu Berlin. Per 35 anni al servizio dei Musei Vaticani come delegato scientifico, direttore di Census, la più antica banca dati esistente nella storia dell'arte per il censimento dei monumenti antichi noti al Rinascimento, e collaboratore anche dell'Ambrosiana per il progetto di restauro del cartone di Raffaello, qui custodito e il cui restauro si avvia, speriamo, a felice compimento. La parola per un saluto al Professor Arnold Nesserat. Illustri autorità e chiarissimi accademici e accademiche, Sono molto lieto e onorato di partecipare a questo solenne atto accademico e ringrazio il Gran Cancelliere dell'Accademia Ambrosiana, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, per aver consentito la testimonianza del progetto triennale ad experimentum I Saperi dell'Arte. Ringrazio Monsignor Franco Buzzi, il Presidente dell'Accademia, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana e Presidente dei Saperi dell'Arte insieme all'Avvocato Atolico Trivulzio e a me, per il suo gentile invito e il delicato ruolo che mi ha affidato. Ringrazio il Vice-Prefetto dell'Ambrosiana, Monsignor Pierfrancesco Fumagalli, di avermi dato la parola. I Saperi dell'Arte sono un progetto voluto dall'Accademia Ambrosiana e dalla Fondazione Trivulzio e si è svolto in tre convegni internazionali dedicati alla storia e alla storiografia dell'arte. Dal Rinascimento a Milano e in Lombardia si è poi allargato con lo studio del barocco, ovvero partendo dall'impronta di Roma in Europa e nelle Americhe, per aprirsi quindi con il secolo dei Lumi a tutto il mondo. Con questa divisione, secondo le tre epoche, caratterizzate fortemente dalla fortuna dell'Antico, i Progetti dei Saperi si iscrive nel tema del simbolo e del mito che era stato così presentato nella locandina del primo convegno con Enea che porta il padre Anchise sulle spalle fuori da Troia Ardente, tratto da una copia, custodita in Ampinacoteca Ambrosiana, del famoso affresco di Raffello sull'incendio di Borgo in Vaticano. I contributi di circa 100 relatori dei mondi e delle regioni culturali più diverse hanno riguardato tutte le discipline artistiche, dal disegno attraverso pittura, scultura e architettura, fino alle arti minori. Sono stati applicati in metodi più diversi, come l'iconologia, la critica stilistica, la ricerca archivistica, il restauro fino ad approcci piuttosto individuali di Abbi Warburg e alla Bildwissenschaft o alla Visual Culture. Insieme sono stati presentati i contributi scientifici anche attraverso l'applicazione della tecnica e i nuovi media. Le accademie e le università sono ancora un ambito che permette di coinvolgere le varie facoltà in un discorso inter- e multidisciplinare, sfruttando il contributo specifico di tutte le discipline. Quando Goethe dice che il simbolismo trasforma il fenomeno in un'idea, l'idea in un'immagine, ed è così che l'idea nell'immagine rimarrà sempre infinitamente attiva e irraggiungibile, Goethe si riferisce al fatto che ci si rivolge al senso visivo sia che si abbia un'immagine direttamente davanti agli occhi sia che si alluda, per esempio, nella poesia a qualche cosa che abbiamo visto o possiamo vedere. Rimane inoppugnabile il fatto che il simbolo rimane sempre distinto dal simboleggiato, cioè svolge una funzione costitutiva. Con la formula dell'Iconic Turn, rifacendosi al Linguistic Turn, la storia dell'arte tiene conto dell'enorme impatto dell'immagine, sempre più influente e ormai anche del video, nelle nostre società globalizzate e nella vita dell'individuo. Nel suo famoso saggio sulla prospettiva come forma simbolica, Erwin Panofsky ha affrontato il ruolo del simbolo come sostituzione per quanto riguarda la complessità che la rappresentazione visiva dello spazio richiede. Adoperando un termine del filosofo Ernst Kassirer, Panofsky applica la costruzione prospettica non come un criterio valorizzativo, ma come criterio stilistico. Il posto della prospettiva come suggestione all'occhio celebrato nell'umanesimo lo sta apprendendo oggi la realtà virtuale, la quale già si chiama realtà e quindi comincia a sostituire, ad oscurare la coscienza della forma simbolica. La virtualità offre inesplorati approcci al mondo della scienza come per il piacere e per tutte le situazioni della vita. Nell'accogliere le grandi opportunità dei nuovi strumenti servirà una sensibilità per la distinzione tra rappresentato e rappresentante, cioè il senso per quello che è reale e per quello che è, nel modo ristretto o più ampio, una forma simbolica. L'uomo deve relazionarsi alla realtà in tutti i campi. Secondo l'espressione di un teologo tedesco, la Chiesa della Parola vive in un mondo di immagini. L'arte e la storia dell'arte avranno qui un grande campo, antico e nuovo, di ricerca di grande attualità. L'ambrosiana con la sua pinacoteca fantastica che festeggerà il suo quarto centenario l'anno prossimo è già una buona strada e sono molto contento che l'arcivescovo ci ha ricordato oggi che il museo non è una cosa chiusa, è un luogo di formazione, è abusato spesso, è un posto per ispirazione da dove viene l'energia e quindi la speranza. La ringrazio molto. Grazie.